Per arrivare a timbrare il cartellino d'entrata alle otto e trenta precise, Fantozzi, sedici anni fa, cominciò col mettere la sveglia alle sei e un quarto. Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti continui, è arrivata a metterla alle sette e cinquantuno. Vale a dire, al limite delle possibilità umane. Tutto è calcolato sul filo dei secondi. Cinque secondi per riprendere conoscenza. Quattro secondi per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie. Giusei per chiedersi, come sempre senza risposta, cosa mai lo spinse un giorno a sposare con la specie di curioso animale domestico. Tre secondi per bere il maledetto caffè della signora Pina. Tremila gradi fare noi! Dagli otto e dieci secondi per stemperare la lingua rovente sotto il rubinetto. Due secondi e mezzo per il bacino a sua figlia Mariangela. Caffè latte con pettinata incorporata. Spazzolata dentifricio mentoato su sapore caffè. Provocante funzioni fisiologiche che può così espletare nel tempo di valore europeo di sei secondi netti. Due, uno. Ha ancora un patrimonio di tre minuti per vestirsi e correre alla fermata del suo autobus che passa alle otto e zero uno. Tutto questo naturalmente salvo tragici imprevisti. Cambio! Non ce la farò mai. E allora? Allora prenderò l'autobus al volo. No, Ugo, l'autobus al volo no. No, papà! Sì, saltando dal terrazzino. Guadagnerò almeno due minuti. No, Ugo, non l'hai mai fatto. Non hai il fisico adatto. Non l'ho mai fatto, ma l'ho sempre sognato. Ugo! Ma che cosa fa? Prende l'autobus al volo. Coraggio ragioniere! Grazie. No, Ugo, non l'ho mai fatto, ma l'ho mai fatto, ma l'ho mai fatto, ma l'ho mai fatto. No. No. No spingas! No spingas! Che è successo? No, 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 no! Chi è stato il figlio? Si può sapere chi è stato il figlio? Lui è stato il figlio! Devo andare in ufficio, devo timbrare il cartellino Non si può rinviare la discussione? Sono in un ritardo pazzesco, devo timbrare il cartellino Aspetta, deve firmare che la responsabilità è sua Ha una pena, c'è una pena? Lei non può rinviare? No, niente Aspetta, come? Affirma col sangue Ecco, guardi, va bene no? Arrivederci Avanti, Fantozzi, che ce l'ha fatto? Coraggio! Coraggio! Ancora! Ancora, Fantozzi! Su! Un altro spazzo è dappare! No, non lo aiutate Se no è squalificato, deve arrivarci da su Si, alzi, che ce l'ha fatto? Su, non si dia per vinto! Su, non si è arrivato, su! Forza, forza, Fantozzi! Forza, Fantozzi! Su, e... Ci mancano appena cento metri! E poi è arrivato Su, forza, Fantozzi! Dai! Dai! Forza! Le, 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 le! Grazie a tutti!